E' stata a casa sicura la loro struttura didattica che i Vigili del Fuoco di Pistoia hanno preparato una sorpresa speciale per i 90 anni di Atos Frosini, capoturno storico del Comando Provinciale dei Pompieri ed ex ginnasta e veranima della società Ferrucci Libertas. Dopo la presentazione del libro, organizzata al parterre di Piazza San Francesco, l'iniziativa per Atos Frosini è stata nel segno di un revival davvero speciale in occasione dei suoi 90 anni, facendolo rincontrare, dopo decenni, con la signora Marzia Butelli, che all'epoca della storia, cioè nei giorni dell'alluvione del 66 a Firenze, era neonata e viveva nella minuscola frazione di Lentula sulle montagne tra Pistoia e Prato, dove l'eccezionale nevicata del periodo aveva isolato una famiglia con la piccola Marzia da poco nata, alimentata dal latte artificiale, la cui scorta però era in esaurimento. Come componente del reparto nazionale di soccorso in montagna, Frosini venne incaricato insieme a altri quattro vigili del fuoco di portare il latte necessario alla bimba, la cui abitazione però non era raggiungibile neppure con il mezzo a trazione integrale sul quale ci si era recati sul posto. Si proseguì a piedi, ma anche così la spedizione dovette dopo un po' bloccarsi. A portare quindi l'indispensabile alimento fu allora, inforcati gli sci, autosfrosi Nicolo Zaino, pieno di barattoli di latte, dopo aver percorso con le immaginabili difficoltà un'ora di viaggio su costoni saliscendi innevati, sino a avvistare il falò che i paesani di Fossato vicino all'Entula avevano acceso proprio per orientare i soccorritori. Una storia che a casa sicura è stata ripercorsa nel migliore dei modi, cioè facendone rincontrare i protagonisti. È un effetto inimmaginabile perché io non rivedo lei, ma rivedo una bambina piccolina che faceva... i bambini lo sapete l'effetto che fa, è qualcosa di straordinario. È stata una bella emozione, sono molto contenta perché non mi aspettavo una festa così, bello. Grazie.